Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo Warf Room, ovvero Crash Bandicoot 2 Entrance. Questo è il gioco che avete votato quasi tutti ed è il diretto seguito di XS. Io direi di iniziare con l'avventura, ora c'è un, per così dire, filmato. Ecco, come potete vedere siamo sparati direttamente in questo livello che non è altro che un piccolo tutorial. Vabbè, ci dirà cose come sicurire i footy-boomba, saltare, rompere le casse. Però alla fine questo è un livello vero e proprio perché ci darà la gemma e il cristallo e poi dovremo rientrarci per fare la reliquia. Insomma, come avete potuto leggere, in questo gioco non dovremo affrontare il Dr. Cortex, bensì entrovi. Che chiamerà anche un suo vecchio amico, o penso un nuovo amico, non ne sono sicuro. Che incontreremo comunque, cioè, verrà introdotto fra qualche secondo. Beh, altri tutorial idioti, di cui non penso che abbiamo bisogno. Anche qualcuno che non è un Fanticrash potrebbe sapere queste cose. Comunque adesso c'è il continuo del filmato. Comunque adesso c'è il video. Ecco, quindi fa la sua apparizione Entrance, da cui deriva il titolo del gioco. Ok, le so queste cose, ma perché sto anche a leggerle? Giusto per completezza, immagino. Quindi il loro piano è quello di ipnotizzare i nostri amici per portare dalla loro parte. Comunque quella era una cassa rinforzata, mica di metallo. Poi magari sono di metallo, io non lo so, però non mi pare. Comunque abbiamo praticamente le stesse mosse di XS, però guardate, abbiamo già il doppio salto e la super panciata. Quindi ci saranno dopo dei potenziamenti del tutto nuovi. Questa è una cosa che non molti sanno, che io ripeterò sempre. Tenete premuto X quando saltate su qualsiasi cosa, così andrete più in alto. Il tutorial dovrebbe essere quasi frito, mancano poche cose da dire. Vabbè, per il Game Boy sarebbe R, ma siccome io ho configurato i tasti secondo un joystick, cioè un joypad per PlayStation, per me sarebbe cerchio. Ecco, questa è una cosa che invece non accade sui giochi per console, come vi ho detto. Infatti, infatti, le casse rinforzate resistono all'esplosione di TNT e nitro. Uh, le case slot dovevano proprio metterle. No, aspetta, ma forse c'erano già in XS, non mi ricordo. Boh. Questa è una cosa che nessun fan di Crash avrebbe potuto dire. Il detonatore, va bene. Hai raccolto il pistola viola? Hai prerotto tutte le casse e tu di sicuro hai rotto le palle. Questa è una cosa che non accade sui giochi. Quindi, ora andiamo sull'isola flottante. Grandissima cosa. Oh, quindi questa sarebbe la Warp Room solo che è fatta a isola come Crash 1. Ecco, avete potuto vedere la creazione di Finto Crash che per la prima volta, diciamo, è incluso nella storia del gioco. Beh, io direi di fare il livello Stampe Persiane che in inglese è Prince of Persia. Ovvero, una parodia di Prince of Persia. Persia. O dico Persia o dico Persia. Io riesco a dire Prince of Persia. Oh, come potete vedere, un livello arabo di quelli di Crash 3 che in XS invece non erano comparsi. E infatti questo gioco si fa molto di più a Crash 3 che a Crash 2 rispetto a Crash XS che vi ricordate? Se aveva livelli della giungla, livelli delle forne... Ehm, magari qua giù c'è qualcosa. Ah, vedete? Non si sa mai. Livelli della giungla, livelli polari, livelli delle forne come in Crash 2. Ora, quando io sento parlare di questo gioco sento dire che c'è una varietà più grande di livelli. In realtà non è vero perché alla fine i tipi di livelli sono 6. Arabia, Egitto, Isola Vulcanica, Spazio... Ehm... Poca c'era più. Il mare con la tavola da surf o quello che è. E la giungla con l'atlasfera. Ecco, Oppina ha raccolto un frammento di gemma. Mamma quante cose che ci sono da dire all'inizio del gioco però. Infatti, in questo gioco ci serviranno 4 frammenti di gemma per ottenerne una. O meglio, per sbloccare il livello che ci permetterà di prendere la gemma. Però questo solo alla fine del gioco. Ci sono 3 tipi di frammenti di gemma, ovvero giallo... No, no, che dico... Il giallo è proprio quello che non c'è, ma tu guarda un po'. Verde, rosso e blu. Sannamente, in XS c'era il giallo e non c'era blu. Questa volta c'è il blu e non c'è il giallo. E si trovano tutti negli stessi tipi di livelli. In quelli arabici... O arabi... Boh, come volete voi. Ci sono quelli verdi, come abbiamo visto qualche minuto... Qualche secondo fa. Poi in quelli egizi ci sono i frammenti rossi. E in quelli vulcani ci sono i frammenti blu. E questi sono gli unici 3 tipi di livelli a piedi del gioco. Perché gli altri sono con i veicoli. Perché infatti sul mare useremo, come vi ho detto, una tavola. Nello spazio, con Coco, useremo una tuta spaziale o quello che è. E l'atlasfera nella giungla. Ecco, infatti, c'è anche un elemento dell'Iradicortex, ovvero l'atlasfera. Che hanno deciso di implementare in questo gioco. Però i livelli dell'atlasfera dell'Iradicortex erano molto più belli. Perché, prima di tutto, c'erano molte più ambientazioni. Mentre questi sono tutti nella giungla. Poi, ovviamente, essendo un Game Boy... Diciamo che lascia molto a desiderare. Perché è abbastanza difficile. Comunque, andiamo a vedere. Primo, diciamo, forse uno degli unici livelli inediti. di Note Lagunari. Perché è quello sul mare. Questi livelli mi piacciono molto. Perché sono abbastanza divertenti. Però è molto difficile... Prendere tutte le casse subito. Infatti, molte volte... Temo che le mancherò. E sarò un po' se to... Minchia. Sono una sentenza. Vabbè, e a sto punto direi di uscire. Tanto. Questo abbiamo già visto. Vabbè, io direi di abbassare un attimo qui. Perché altro non mi piace che... L'audio sia più alto della musica. Devono stare tutte e due allo stesso livello. Quindi... Io direi di non accelerare usando il tasto quadrato. Perché a momento non serve. Ci servirà invece nella reliquia. A proposito, ora io... Oh, ma che cavolo però! Mamma mia! Di norma io farei subito la reliquia dopo il livello normale. Perché è un livello con un veicolo. E quindi non ci serve il potenziamento delle scarpe. Però questa volta non lo farò. Dato che dopo il boss, il primo boss, ci verrà dato il primo potenziamento inedito. Il nuovo. Che è quello del... Della super scivolata. Ovvero una scivolata continuata. Molto potente. E' soprattutto molto veloce. Che ci permetterà di prendere la reliquia di platino. Perlomeno nella prima stanza di teletrasporto. Dove si trovano i livelli più facili. Quindi con meno ostacoli. E quindi lì possiamo usare la super scivolata. Senza rischiare di colpire nitro. Di morire malamente. E devo dire. Con la super scivolata. I tempi si battono in maniera molto molto facile. Perché secondo me. Poi non ne sono sicuro. I tempi sono stati... Ehm... Stabiliti. Su... Il potenziamento della corsa. Quindi usare... La super scivolata ci sarà di grande aiuto. Però questo lo farò soltanto nella prima stanza di teletrasporto. Perché dopo i livelli diventano più difficili. E ci metterai soltanto più tempo con la super scivolata. Morirei tante di quelle volte. E non mi sembra il caso. Però anche quando avrò la corsa. La super scivolata la userò. Perché sarà molto molto utile. E mentre che dico tutte ste belle cose. Il livello l'abbiamo direi quasi finito. Attenzione allo squalo qui. Perché anche se abbiamo delle maschere. Ci ammazzerà senza ritegno. Allora in questi livelli acquatici. Dobbiamo stare attenti. Sia allo squalo. Sia al... Ai gabbiani. E a... All'erba lì perché ci rallenterà. Però non è una cosa di cui ci dobbiamo preoccupare adesso. Allora siccome ho notato che nell'ira di Cortex ho avuto tante difficoltà. Ma direi anche troppe. Vabbè no facciamolo dopo la trasfera. Adesso non ho voglia. Sala giochi d'Egitto. Ho deciso di fare questo gioco per conto mio. Prima di fare... Farci Wolf Roo. L'ho finito in qualcosa tipo 4 giorni. E... Devo dire che le reliquie di platino sono state... Più facili di quanto mi ricordassi. Perché l'ultima volta che ho finito questo gioco. Che forse è stata anche l'unica. Mamma mia per prendere ogni reliquia. Ci ho dovuto mettere qualcosa tipo un centinaio di tentativi per i livelli più difficili. Roba assurde. Questa volta invece mi è andata decisamente meglio. Ehm... Ho deciso di fare una cosa del genere. Perché... Soprattutto perché questo è un gioco che io non conosco benissimo come l'ira di Cortex. E nonostante io l'ira di Cortex lo conosca bene. Appunto sto avendo delle difficoltà. Quindi figuriamoci con un gioco che... Che forse è stato l'ultimo che ho completato al 100%. Dico per la prima volta. Forse soltanto Crash Fusion. Proprio quello in teoria non l'ho mai completato al 100%. Perché lì si deve fare robe strane con... La... Con Spiro Fusion. Che si devono fare i scambi di figurine. Tutte robe assurde. Quando qui... Sarebbe bastato fare... Due giochi separati. Non c'è bisogno di... Unirli o robe del genere. Comunque i frammenti della gemma si troveranno in passaggi segreti. Che perlomeno all'inizio del gioco saranno... Nei primi livelli saranno facili da... Scovare. Poi diverranno un po' più... Complicati. Secondo me io già l'ho mancato. Perché mi pare strano che siamo fuori... E non ho ancora incontrato. Forse adesso rientriamo dentro. Non è che me lo ricordi proprio benissimo sto livello. Molte volte ci saranno segnalati passaggi da... Ecco, li li vedete? I frutti Wumpa. Meno male che ci sono loro. Fate attenzione che questi passaggi possono essere difficili. Ora no, perché è tipo... Il secondo livello a piedi. Quindi non è che potevano fare... Qualcosa di incredibile. Di conseguenza ogni livello a piedi comparirà quattro volte per i quattro frammenti della gemma. Per questo io dico che non è tanto vero che questo gioco... Più variegato rispetto a XS per quanto riguarda la tipologia di livelli. Però lo è per come sono strutturati i livelli in sé. Che devo dire la verità sono meno noiosi. Sono più difficili. Che può essere una cosa negativa o positiva a seconda dei punti di vista. Ma soprattutto hanno alcune novità. Come per esempio delle casse speciali. Che nei livelli egizi non ci sono. Quindi non ve le posso far notare. Che ci faranno usare dei veicoli istantaneamente. Insomma sono delle novità molto molto curiose. Direi che è arrivato il momento di fare il primo livello con l'atlasfera. Che poi alla fine se ci pensate... Soltanto in questo gioco viene nominata sta cavolo di sfera. Vediamo cosa ha da dirci a Quaku. Usa A per frenare e B per accelerare. Nel mio caso sarebbe X per frenare e quadrato per accelerare immagino. Vabbè. Mamma mia. Questa è l'unica tipologia di livelli 3D del gioco. Vabbè. Quelli spaziali e del... Diciamo nell'oceano. In teoria sono in 3D perché andiamo in avanti. Però alla fine no. C'è uno schermo piatto. E' il gioco che si muove da solo praticamente. Questi invece sono completamente in 3D. E si nota perché sono molto dispersivi. Ed è molto facile mancare... Oh, il vecchio problema che avevo con XS. I messaggi che compaiono e mi fanno bloccare il gioco. Vabbè. Questa è proprio una cosa che non posso evitare perché compaiono... In modi non determinati. Cioè a caso. Completamente a caso. Dicevo è molto facile mancare delle casse per via dello sfondo. Guardate come... Cioè è abbastanza marroncino. Un po' come le casse. Dico soprattutto i bordi. Inoltre vedere la strada esatta può essere un po' complicato perché... Ecco come... Cioè io sono morto senza neanche accorgermene. Che non si riesce a distinguere bene la profondità. Ok. Questa cosa ha semplicemente spiegato ciò che intendevo dire. Dato che il gioco... Non si è capito cosa ha fatto. Ecco. Io ho paura per questi livelli nella reliquia. Perché comunque fare un livello del genere in modo veloce senza morire mai... Sarà molto complicato. Devo dire l'ultima volta che ci ho giocato... Appunto qualche giorno fa... Ehm... Non è stato molto difficile. Però... Alla fine del livello avevo un dolore al dito. Impressionante. Perché qui devo tenere premuto sempre. Altro checkpoint. Poi ragazzi ovviamente dobbiamo sempre stare attenti alle nitro. Che sono sparse dappertutto. Io vi consiglio... Almeno nel livello normale di non andare veloci. Di non accelerare. Che può essere fatale. Poi nella reliquia quando... Accelerare sarà necessario. Io vi consiglio comunque di frenare con X quando incontrerete delle nitro. Perché altrimenti ci andate a sbattere addosso e il tempo... Se ne va a quel paese. Ora io ho notato che ci sono anche alcune scorciatoie per... Diciamo battere la reliquia. In modo abbastanza facile. Quindi spero di ricordarmele. Ora siamo a 16 minuti quindi non so quanti altri livelli riesco a fare oltre a questo. Mio Dio. L'ho spiorata. Mamma mia ste rampe. Quante volte ci faranno morire ste rampe? Perché ci saranno molti... Molte parti del livello dove ci saranno delle rampe. Una di fronte all'altra. Però siccome... Diciamo è disegnato un po' male. Uno non si rende conto. Vedete? Sono disegnato in questo modo qui sulla sinistra. Diciamo che è un po' difficile notare che sono rampe. Quindi uno potrebbe anche non farci caso. Sì però guardate con quella nitro quanta strada mi ha dovuto far rifare. Che noia. Da forse ho fatto bene a non fare la reliquia in questo video. Anche perché fare subito la reliquia dopo il livello può essere un po' noioso. Perché faccio... Tipo per 5 minuti la stessa cosa. Mamma mia. Io che pensavo che con l'ira di Cortex. Dopo... Con la fine delle reliquie di quel gioco. Mi sarei preso una... Meritata pausa. Invece no. Subito di nuovo con ste cavolo di reliquie. Mamma mia. Comunque vi ho già detto che... Pensiamo che questa è qui una scrucciadoia eh. Infatti guardate ci fa saltare un bel pezzo di livello. Però io non la uso perché non mi serve. Stavo dicendo... Che stavo dicendo? Ma i livelli proprio sono più difficili perché... Diciamo sapete che io... Non ho molte difficoltà a raggiungere le 99 vite. In questo gioco invece ci tesco solo proprio negli ultimi livelli. Quindi... Sarà un po' difficile. Ora perché ho due mass... No ma non ci posso... Mostre due casse mancanti di dove cavolo sono. Ma tu guarda un po'. Poi ovviamente quando accadono queste cose... Che sono imprevedibili. Uno non può farci nulla. Dimmi che si trovano in qualche strada... Alternativa che non ho... Intrapreso prima. No 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 no. Ecco poi ste rambe mi ricacciano indietro. Ci devo andare in moto lento. Se no... Cade giusto idiota. Forse sono su sto passaggio ma non penso proprio. Uffa che noia. Ma dove sono ste robe? Ve l'avevo detto che... I livelli con la trasfera... Erano molto meglio... Nella versione per console. Vabbè io nel frattempo torno indietro. Vedo se ho mancato qualcosina. Ma ste cose sono immense. Dove posso averle dimenticate due casse? Maledetti checkpoint che vi mettete davanti alle casse che... Che poi quando muoio mi dimentico di andarle a riprendere. Oh vabbè meno male. Pelo meno ho capito dove si trovavano. Solo che diciamo iniziare... No non laggare. Iniziare così non è stata proprio... Incoraggiante eh. Che già è un livello dove non prendiamo le casse. Vabbè diciamo che gli altri saranno un po' più facili sotto questo punto di vista. Però saranno più difficili per... Per le vite no? Perché moriremo molto più spesso. Almeno penso. Oh meno male. Io salvo. Direi che un altro livello lo possiamo fare. Tranquillamente. Vediamo quando abbiamo fatti uno. Due, tre, quattro. Cinque e sei. Vabbè ci manca l'ultimo. Tappeto sfuggente. Oh il titolo di questo livello è un indizio. Per la cassa che incontreremo in esso. Infatti sarà una cassa tappeto volante. Chiamiamola così. Vabbè vedremo dopo. Ora è inutile parlarne. Guardate che infami dove l'hanno messa sta cassa. Odio ste cose. Vediamo che negli ultimi livelli ci saranno un po' di cose infami con le casse. Mamma mia stavo per cadere. Poi ragazzi in questo gioco mi pare che anche con l'ira di Cortex forse ve l'ho già detto. Però ora sinceramente non mi ricordo. E dai. Vabbè ora ve lo spiego quando mi troverò sulla terraferma per così dire. No aspetta. Non è che quel tappeto conduce da qualche altra parte. Mamma mia questi livelli arabi non riesco mai a capire quando c'è una parte sotto e quando no. Perché non si riesce a vedere il fondo. Per esempio cosa mi dovrebbe far capire che qui per esempio non c'è niente sotto. Io non rischio però. Ah quindi quel tappeto di sopra si è viva a prendere la gemma verde. Quindi andiamo subito. Mi ero scordato di questo dettaglino. No 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 non cadere. Ok l'abbiamo quasi presa. Eccola qui. Ora dovremmo ricomparire nel livello normale. Dai. Io mi fido delle mele. Meno male. Ecco qua. Andiamo al checkpoint. Beh io direi di cadere a questo punto. Vedete. C'era qualcosa in effetti. Eppure qua sotto. Però era impossibile dirlo. Va bene. Cavolo diciamo che come primo video ve lo sto facendo durare un po' troppo. Perché sono a metà livello e siamo già a 20 minuti. Però vabbè. Purtroppo non avevo previsto che avrei mancato quelle due casse nel livello con la clasfera. Ok dovremmo essere arrivati. Ah no c'è il bonus prima. Che qui fanno alzare la pedana per portarci al bonus. Però è proprio che non è che sia un cambiamento così utile. Giusto per farlo sembrare ancora di più ai giochi per console. Diciamo che in questo gioco ci sono meno giochetti maledetti con i bonus. Cioè è più facile prendere tutte le casse. Infatti non ho incontrato alcuna difficoltà rispetto a XS. Quindi perlomeno una cosa più facile qui. Cioè questi mi prendono in giro. Perché ogni volta sembra che sotto non ci sia niente. Cioè avete notato anche voi sta cosa. Io vado a controllare. Vabbè non c'è nient'altro qui. Poi di vite ho notato. Che di vite. Vabbè ora ce ne hanno dati tre in questo bonus. Però ce ne sono veramente poche negli altri. Bellissimo. Controllate sempre il numero di casse che avete rotto nel bonus prima di andarvene per essere sicuri. Allora io qui. Ecco. Una volta mi è capitato di non rompere una delle due casse e quindi avevo una cassa di meno. Oh guardate che figo. Cioè queste sono delle novità che mi sono piaciute. Anche se controllare sta roba è un po' difficile. Perché a volte non colpisci le mie. Avete visto? Quell'idiota sul tappeto se l'è cavata anche se non avrebbe dovuto. Poi in queste parti non è possibile diciamo tornare indietro per prendere le casse. Quindi se dovessimo mancare dovremmo morire e basta. Ciao vita. Benissimo. Ora cosa c'è? Aspè prima rompiamo questa. Che mi sa che quella tiene e ti non rompe pure quella. Vabbè il livello dovrebbe essere quasi finito ormai. La gemma. Il pezzo di gemma abbiamo preso. Il bonus fatto. La parte col tappeto pure dovrebbe rimanere solo il detonatore delle nitro. Ora. Direi che è inutile fare salti affrettati qui. Siamo alla fine del livello. Meglio perdere un minuto della vita che la vita in un minuto amici. Ricordatevi. Anche se non ci interamente con un gioco di crash. Ecco qua sotto c'era una parte. Guardate che fa questo diodo quando cade e io premo il cerchio per accucciarmi. Guardate fa la scivolata in automatico. Io per non fare fare questa cosa devo muovermi anche di un millimetro. E poi si accuccia. Allora. Questo sarà. Questa sarà la causa di tante mie morti. Ne sono totalmente sicuro. Ora. Non mi ricordo se ve l'ho già detto in XS. Perché non mi ricordo se accade pure lì quella cosa. Però. Io ve lo ridico per sicurezza. Mamma mia è durata fin troppo sta parte. Finiamo subito i livelli e poi a casa. Benissimo. Continua e salva. Bene ragazzi. Spero che questo primo video di Crash Bandicoot 2 Entrance vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nella prossima parte dove affronteremo il primo boss. Crunch cattivo. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.